Il Ministro Zangrillo ha detto con chiarezza che l'autopercezione positiva della pubblica amministrazione non basta più, serve farsi giudicare dai cittadini e dalle imprese, così come ha messo in evidenza che andare avanti semplicemente con lo studio teorico per i concorsi interni non è un sistema che valorizza le performance legate alla prestazione pubblica. PAOK è un progetto che vuole appunto invertire questa rotta, per la prima volta non sarà una premiazione con cui si termina un percorso, ma un punto di inizio di un lavoro per migliorare la replicabilità dei modelli positivi, se qualcuno fa una cosa che riscuote un successo e incontra la soddisfazione di cittadini e di imprese bisogna lavorare insieme perché diventi un modello replicabile, con questo progetto noi invitiamo tutte le amministrazioni a mettersi in gioco, perché avremo insieme alla SDA Bocconi e al Dipartimento della Funzione Pubblica un team che giudicherà i progetti, li premierà e comincerà insieme un percorso per renderli solidi e replicabili in altre aree del Paese.